vero? VA A CHE CAVOLO E? babyfix ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video so che il video precedente era un po' diverso dal solito perchè effettivamente la password mode è tornata e qui si fa molto vedere a tutti vedo perchè il video in cui vi spiego cioè vi faccio vedere le mode vi spiego un po' come si chiostra la situazione per quanto riguarda password mode è andata, beh, egregiamente in generale è andato egregiamente però tutti, cioè credo che molti di voi abbiano notato che ho cambiato programma di registrazione perchè l'audio non era dei migliori adesso l'ho ricambiato e l'audio dovrebbe venire meglio del primo addirittura perchè col primo avuto dei problemi tecnici quindi a posto di non portare video ho deciso di cambiare programma per fare video e oggi ci troviamo come sempre su minecraft ma a breve dovrei portare un video su un nuovo gioco comunque ci troviamo oggi su minecraft per analizzare un sito molto particolare che è un sito normalissimo però non so perchè perchè sono molto sfortunato quanto riguarda l'entità cioè mi capita in ogni mondo un'entità vabbè è un sito molto particolare in cui nome beh non conta lo chiamo tipo red red e il sito e il sito e le led buono se esso on ok questo è tutto survival questo è on ora creiamo un nuovo mondo iniziamo iniziamo questa parte non so neanche se intagliarla perchè non ci si capita le piccole cose iniziamo questi cati nel mondo questo sito l'ho trovato e dovremmo sponare vicino se no addirittura dentro un villaggio e il villaggio dovrebbe cioè dovrebbe essere tutto normale se no che potrebbero capitare dei visitamenti di qualche entità particolare ad esempio non lo so vabbè sinceramente dei visitati un po' di filmovron o qualcosa così insomma non di minecraft per me le minecraft c'è in inglese non dovrebbe laggare ma non per altro no perché ecco qui qualche lag particolare ok la cesta è importante ok ok se parlo in modo strano un po' perché con le cuffie se in me non si sente molto bene perché questi sono cuffie per ascoltare soprattutto la musica ma no infatti non dovrebbe avere un microfono di alte prestazioni però io il microfono esterno e quel cavallo sta appena volando ecco ragazzi cosa sta nel tutto che potrebbero accadere ecco poi è un esempio potrebbe raggiarmi un po' il gioco forse mi cambia un po' non lo so però ragazzi guardate siamo in single player sentiamo ok allora va bene allora copy fine e siamo nella 1.14.4 quindi nessun'altra versione 1.15 nessun'altra versione più moderna ovviamente ovviamente il 90% di voi che si chiede in questo momento ma cosa stai facendo allora praticamente sto controllando se ci sono delle ceste a chi mi interessa a chi mi interessa parecchio si allora ah io qua tutto agli alberi cioè se mi prendo la ceste e ti prendo la ceste poi giusto un po' la situazione giusto e non la situazione la cosa non ci sarebbe quasi perché effettivamente non lo so uccidereci o meno si la grafica è normale perché c'è anche la grafica oh uno svelato ottimo un pochino perché possiamo vedere che scala interessante però proprio uno svelato ok il vittager non ha il suo lavoro sono disoccupati sono diventata la questo villaggio la maggior parte eh che cavolo è c'è un aerobrine verde non mi vuoi proprio far colpire ditemi cos'è mi sembra un melfo un melfo di aerobrine vedete così così che ce la faccio a merito non so non so non so mi fuggia qua perché ti posso assolutamente ma non so che non sapete che cosa stupido coso mi sembra mi sembra mi sembra che questa oh è del foriero Brian dai simbolo sicilia mi raccomando se notate qualcosa di strano fatemelo sapere è che io qui ho la renda il massimo 120 perché c'è il massimo del programma quello di prima era tipo 60 ma c'è un villico buono in questa città mi sa che l'elfo di aerobrine questo lo chiamo che mi ricorda aerobrine e non vagamente erobrine come quell'estere che mi ricorda vagamente un maiale e la vabbè con la cosa che ho detto ve la ricordete sempre comunque posso vorrei cuocere queste patate ma non so dove montaggio che cos'è ok c'è dei rumori che sembra quasi beatbox semplici di agile mi da uno smelato mi ha dato 10 mattori per me sei per agita quante? questa me ne da 4 oh che ce la faccio mi ha dato tutto mio penso che non dovrei fare scambio di vintage anzi no perché perchè vabbè qua c'è anche il golem quello mi sembra che era una zombie se comunque era 1.14 io ci ho giocato molto così nell'ultimo periodo ci ho giocato un sacco 1.14, 1.15 vanilla so sto impanillando un po' perchè non erano cioè l'ultimo è stato molto bravo mi manca il vanilla però guardavo quando facevo i video mi trovavo in difficoltà perchè non sapevo come adesso quello cos'è uno zombie non era 1.14 lo sapevo però io ci ho giocato tanto ne ho 1.14 e non ho mai visto una cosa del genere anche anti salmon zombie cavolo quello l'ho visto ma cos'è il velocissimo e mi fa morire paura questo e mi fa morire dove invece passi potreste vedere no perchè ho sempre quello mi ricorda quello mi ricorda ma non lo so ragazzi guardate quello mi ricorda un villager con gli occhi stonti ma con cioè un villager mi sa una faccia di un essere umano ma comunque questa è la mia skin ufficiale è un enderman bello vedere un enderman strano proprio un enderman potenziato perchè non è il mio mostro per me comunque comunque insieme leggermente un colem di ferro piccolo nero un villager con gli occhi storti che non esiste in minecraft sia chiaro però almeno un momento villager non fa di cose strane ok che mi fa paura cioè non si vuole far guardare dietro aveva uno stemma dietro ok è un creeper sta venendo alla porta e fa male anche attraverso la porta se avrò questa porta ragazzi c'è lui quindi diciamo una cosa così ho visto un'altra serie che non mi piace allora mi spiegate che cavolo si succede in questo mondo infatti mi sapete sapere qualcosa che non ho visto anche ho sentito che sono uscito appena cavolo non mi ha perso ci senti e lì c'è il golem casomai golem vieni ad aiutarci che è quello del tuo lavoro ecco bravo aiutaci bravo guardate ragazzi ci sono altri esseri guardate ragazzi ci sono altri esseri oh mio dio quella è la zombie che ho visto prima non mi voglio far colpire perché ho paura che one shot non ci sono altri esseri non ci sono altri esseri bravo facciamo attenzione ai supervioli perché sapevo che potevano accadere cose strane perchè tutti i modi in cui gioco mi accadono cose strane questo dettaglio ma è lì c'era cioè conto parecchio ma non quando senti rumori inquietanti ok comunque dall'ultima volta che c'è un che abbiamo incontrato un incidente di colpire questa bocca quindi non la voglio non la voglio colpire quindi questa situazione ovviamente la sanno sono quelli che hanno visto l'episodio precedente cacchio cos'è no golem e dai fai un pochino il tuo lavoro meglio di quanto ti faccio da adesso bravo golem ecco qua il golem uccide tutti in tutto colpo vediamo se ha droppato qualcosa si magari oh mio dio ma perché ma cos'è ok ragazzi golem fa il tuo lavoro bravo golem comunque questo episodio da inquietante sta diventando strano oh cavolo questo è più veloce cioè questo ha un ha un cioè attacca da più lontano bravo ha droppato un'arma ce la possiamo prendere si chiama oh è l'uomo oh mio dio il nome è molto rassicurante Candyman cioè è un uomo non dovrebbe dovrebbe tutta le dolci caramelli insomma Candy insomma però toglie 5 cioè fa compiugina a spalla di legno però sempre meglio di niente ragazzi se incontrano un'attività con 5 di vita no ma quelle no va bene 5 deve essere 2 e mezzo di vita perché 5 perché si fa a mezzo di corso ma è capito infatti noi abbiamo 20 fuori abbiamo 20 di salute come zombie per altri voli sono 1 2 3 4 5 e c'è anche 5 10 quindi è solo curiosità ci sono due informanti sta arrivando notte quindi non so c'è potrebbe accadere con un'altra cosa ok è molto più efficace di una spada ah che cos'è mi sono spaventato per finita muori 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 mezzo cuore ragazzi cioè ho mezzo cuore cacchio però lo scherzo non mi può uccidere così sono all'angolo ragazzi sono all'angolo sono morto ma la cosa bella è che posso sempre andare a recuperare le cose sai vedi quale il problema è che c'è quell'essere ci sono scheletro se se ma che cavolo è babyfix ragazzi comunque ho recuperato tutte le mie cose sono sussurrata da una parte perchè sono molto duvida molto dovuto oppure riavviare il computer in minecraft quindi no che non si può fare così perchè bisogna andare magari questa è casa nostra e di notte ci serve di notte abiteremo qua no 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 ragazzi indevole di qui no 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 quanto pane posso farmi oh 48 di pane che è un bel non è un bellissimo cioè non è un bottino bellissimo sto è meraviglioso cavallo giusto passi passi ok la zombie ok ok non c'è nient'altro non te la posso spiegare qua è dove c'è la babyface lo so non c'è più però questi mostri fanno l'agguato si ragazzi babyface non la conosco proprio come cita se li sono scheletro quindi andiamo a casa nostra cavolo no col cappi no col cappi no col cappone anche qua in questa casa no andiamo nella nostra casa prendiamo su questo letto andiamo a casa nostra fuori di una schede ma ok non mi ricordo niente mettiamo il letto qua e dormiamo no non mi ricordo il giorno migliere comunque ragazzi beh al momento il video può finire qua perchè non credo che potremo incontrare qualcosa di più strano di quello che abbiamo visto fino ad adesso se volete altri video di questa serie che poi deciderò come chiamare beh non esitate a scrivermelo nei commenti i sit già ve l'ho rivelato perchè sono stato molto magnanico perchè volevo cioè volevo farvi giocare subito e vedere se anche voi vedete qualcosa di strano ovviamente vi avverto sto giocando nella 1.45 e non a tutti potrebbero funzionare questi mondi perchè effettivamente non a tutti funzionano i siti infatti almeno questo sit l'ho provato 5 volte per farlo funzionare giusto per portarvi qualcosa che non sia normale vanilla e a proposito ragazzi scusate questo proprio cioè sto parlando così comunque a proposito ragazzi se volete una vanilla c'è la pasquit world oppure voi vedete come chiamarla beh me lo dovete chiedere però il problema è che quando me lo chiederete mi dovete essere in tanti ed effettivamente non va bene c'erano sempre aspettanti quindi no non ho deciso io così la pasquit world mod cioè non non l'avete deciso voi la pasquit world mod l'ho deciso io ti faccio aggiornare mentre la pasquit world dovete essere voi perchè Minecraft vanilla beh mi piace ma non tanto preferisco questi mondi così perchè perchè cioè in generale perchè mi piace un po' cioè a me il loro non piace però vabbè lasciamo stare non come colore come genere letterario giallo insomma non sono costruito non la narrativa classica vabbè lasciamo stare i miei preferenze letterali però in generale l'horror non mi ha mai non mi è mai piaciuto per ogni videogame di Minecraft soprattutto mi piace parecchio l'horror perchè sinceramente mi inizio ad abituare perchè se loro mi fa paura poi non va bene quindi adesso loro non mi fa più paura e fortunatamente cioè capire che mi piace molto questo genere non posso fare C quindi non posso zoomare gli occhi però posso avvicinarmi così comunque è meglio così comunque ragazzi noi ci vediamo alla prossima e se volete un altro video su questa serie fatemelo sapere poi deciderò l'hashtag quando il video sarà finito quindi vi comparirà all'inizio e finito del video se lo state guardando sul computer mi serve anche sul telefono ma questa cosa la devo controllare altrimenti mi ringrazio di desktop e poi vi farò vedere come si fa comunque vado alle certe finiamo qui il video che secondo me è pure meglio perchè questo video durerà molto più di solito quindi ragazzi noi ci vediamo alla prossima buone cose e ciao